Disastro alla diga del Vaiont. Paesi totalmente distrutti. Longarone, Pirago, Rivalta, Villanova. Andrà in scena nel weekend all'interno della rassegna teatrale per ragazzi. Comincio dai tre con il patrocino della Fondazione Dolomiti Unesco, lo spettacolo Vaiont, viaggio nell'oltre. Reading musicale di Susanna Crocco, musica di Diego De Pasquale. In particolar modo noi saremo presenti per le scuole al mattino a Feltra Belluno, il 17, il 18 e il 19. Avremo anche questo grande piacere di avere con noi per il dibattito con i ragazzi un soccorritore e un superstite che quindi sarà presente in sala. Ci sarà anche una replica serale a sfondo benefico con un ricordo di Mario Fabri, giudice del Vaiont, recentemente scomparso. Una novità per Comincio dai tre in cui appunto faremo il sabato 19 la replica serale alle 20 e 30 in teatro e siamo felici di poter raccogliere fondi per il ripristino dell'area Parco Lambioi che è andata danneggiata appunto dalla tempesta Vaia. Ci sarà anche il coinvolgimento di un istituto scolastico che porterà un piccolo dono per i presenti. Il nostro approccio lavorativo è stato proprio quello di cercare prima di tutto un equilibrio tra la parte recitata e la parte musicale e lavorando proprio di fino sulle piccole sfumature che sono quelle che alla fine danno risalto, soprattutto parlo per la mia parte, per la parte musicale, danno risalto poi a tutto quello che è la parte recitata che la mia collega poi presenta in scena. Quindi abbiamo lavorato molto in sinergia, c'è stato veramente uno scambio non solo di emozioni ma anche proprio uno scambio che ci ha fatto proprio crescere entrambi e quindi questo alla fine abbiamo cercato poi di riportarlo in quello che è proprio la nostra rappresentazione di questo Vaiont. Grazie a tutti. Grazie a tutti.